Io credo che questo film è stato un sogno quasi come vincere le Olimpiadi, perché questo film farà vedere sicuramente la vittoria della legalità sull'illegalità. Interpretato da un personaggio come Peppe Fiorello non è altro che un valore aggiunto, perché Peppe è un grande e sicuramente metterà in evidenza i sacrifici che sono stati fatti da me, dai miei figli, perché è una famiglia, è una squadra che ha girato intorno alla medaglia d'oro e quindi ci sarà da vedere perché è un grosso sponsor per la nostra periferia. Un altro grande esempio, Gianni e Pino Maddaloni che sono partiti da Scampia e sono arrivati a Sidney, a vincere a Sidney nel 2000. Io ho avuto la fortuna di interpretare Pino Maddaloni, Gianni, sarà mio padre Beppe Fiorello. È una storia, è un esempio, è uno dei tanti esempi da dover prendere che appunto ci fa capire che con forza, determinazione si può arrivare fin dove si vuole. Io credo che prima di tutto lo sport insegna le regole. Io sto qui in questo quartiere appunto perché ho fatto una scelta, quella di insegnare le regole attraverso lo sport. Io direi come dice Giovanni Malagon, lo sport modello di vita.